In questo video voglio configurare insieme a te il Business Manager di Facebook. Come prima cosa quindi accedo a business.facebook.com e clicco poi su primi passi. Si apre una finestra in cui mi viene spiegato che dovrei affidare a una persona della mia azienda la configurazione di Business Manager. La persona in questione deve gestire la perlina Facebook principale, gli account pubblicitari e le applicazioni della mia azienda. Deve inoltre concedere alle persone le autorizzazioni per lavorare su di essi. In pratica se io ho un'azienda o lavoro nel mondo dell'affiliate marketing o delle pagine Facebook che gestisco, posso creare il mio account business per poi andare ad inserire le persone che voglio che lavorino nel mio team all'interno del mio Business Manager. Cosa serve per aprire un Business Manager? Una pagina Facebook principale che rappresenta l'azienda per la quale lavoriamo, anche se gestiamo più pagine, dobbiamo essere amministratore sulla pagina principale per usarla e configurare il Business Manager. Se non disponiamo di una pagina principale per la nostra azienda, possiamo crearne una. Dobbiamo avere le informazioni aziendali, quindi i numeri degli account pubblicitari e i nomi delle pagine che vogliamo aggiungere e gli indirizzi mail delle persone che lavoreranno al Business Manager. Clicco quindi su Avanti e mi vengono chieste le informazioni sulla mia azienda. A questo punto devo spiegare come la mia azienda utilizza Facebook, se sono un'agenzia che pubblicizza prodotti e servizi di altre aziende, se sono un inserzionista che pubblicizza esclusivamente i propri prodotti o servizi, se sono un sviluppatore di applicazioni o se sono un editore che condivide contenuti tramite la pagina Facebook. Nel caso in cui clicco su Agenzia, mi viene chiesto quante persone lavorano nel mio Business Manager e su quanti account pubblicitari lavorerò all'incirca all'interno del mio Business Manager. Se clicco su Inserzionista, mi viene chiesta la categoria aziendale. Stessa cosa per sviluppatore di applicazioni o per editore. Effettuato il primo passo, mi viene chiesto il nome dell'azienda e la pagina principale dell'azienda. Posso anche creare una nuova pagina nel caso in cui non ho ancora una pagina principale con la quale rappresentare il mio Business o la mia attività. A questo punto devo creare il mio profilo Business Manager, quindi come voglio che venga visualizzato il mio nome all'interno del Business Manager, nome e cognome, email aziendale e conferma nell'indirizzo email. Nessuna delle informazioni personali di Facebook sarà visualizzata all'interno del Business Manager di questo account, che in questo caso è quello di monetizzando.com. E a questo punto sono entrato all'interno del mio Business Manager. Mi viene spiegato che ci sono nuovi modi per lavorare più brevemente all'interno del Business Manager e posso esplorarli in 30 secondi. Posso passare dall'account Business Manager a quello personale cliccando in alto. Sulla destra ho una funzione di ricerca per accedere alle risorse delle persone che lavorano all'interno del mio Business Manager. A sinistra posso accedere ai strumenti per creare inserzioni, gestirle o modificarle. In alto, sempre sulla sinistra, posso accedere alle mie risorse di Business Manager praticamente ovunque. E poi ci sono delle notifiche a sinistra che mi mostrano informazioni in merito a determinati annunci, ad esempio. Posso inserire delle risorse fra i preferiti e quindi averle poi nel menu laterale e posso accedere in qualsiasi momento all'assistenza cliccando in alto a destra accanto all'icona delle notifiche. Dopo aver fatto il tour, clicco dunque su Inizia ed eccomi all'interno del mio Business Manager. Come vedi mi vengono mostrati già subito alcuni dati sulla pagina, in questo caso di Monetizzando e da qui posso gestire le inserzioni, aggiungere nuovi elementi, aggiungere le pagine che gestisco e ancora avere tutte le informazioni sul mio account di Facebook e sulle pagine che gestisco.